Una primavera sassari ricchissima di appuntamenti culturali di valore e di qualità che vanno a coprire diversi settori artistici e gusti di tante persone. Si parte con la quinta edizione di Il Centro in Fiore. Poi cartellone speciale quest'anno anche per il Festival Ababula, arrivato alla sua quindicesima edizione. Il 9 maggio il nuovo teatro comunale ospiterà il Sotto Casa Tour di Max Cazè, mentre il 10 maggio sarà la volta di Niccolò Fabi. Uno degli appuntamenti più interessanti sarà dedicato ai bambini, con lo spettacolo della Melevisione, la fortunata trasmissione televisiva per i più piccoli, che quest'anno festeggia 15 anni di attività, portando Folletti, Principi e Streghe del Fantabosco al nuovo teatro comunale di Sassari, il 26 maggio alle ore 17. Ababula ospiterà anche tante band emergenti, tra cui gli straordinari Dina Tatac da Barcellona, Carlo Doneddu, Charme de Caroline e poi sabato 11 maggio l'atteso concerto dei Siki Tikis, ormai una delle più importanti in realtà del panorama nazionale. Ritorno all'appuntamento anche con Ababula. Quest'anno ospiterà il canto autore Alessandro Fiori per un suggestivo concerto mattutino nella cornice del Parco di Monserrato di Sassari. Sarà anche quest'anno Maggio in Arte, con l'allestimento di due importanti mostre. Dal 16 maggio al 30 settembre il Palazzo della Frumentaria ospita Scusate se parlo di Maria, un percorso nella collezione comunale sull'arte, la cultura e la società Sard. Il 14 maggio il nuovo teatro comunale ospiterà invece alle 21 il concerto di Renzo Arbore e la sua orchestra italiana. Ritorna per la sua settima edizione l'appuntamento con universitari in piazza Unicità, con quattro appuntamenti e numerosi eventi divisi tra gli spazi all'interno dell'università e le quattro piazze coinvolte. Eventi che comprendono l'esclusivo concerto dei Club Dogo, celebre gruppo rap milanese il 25 maggio in piazza d'Italia. E poi grande chiusura del Maggio Sassarese sarà come sempre la Cavalcata Sarda, in programma domenica 19. Arrivata la sua 64esima edizione, lo spettacolo dell'Isola in Festa propone anche quest'anno un ricco calendario di eventi, che avranno inizio già da giovedì 16 maggio, coi primi appuntamenti del Festival di Musica Etnica e World Music Trimpanu. Insomma, un Maggio Sassarese che richiamerà sicuramente tanti turisti da tutta la Sardegna e oltre, compresi numerosi algheresi. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità a tra poco.